Quando piovevano bombe sull'Iraq e sull'Afghanistan, quando la carestia ha attraversato Etiopia, noi eravamo lì. Quando le inondazioni, terremoti hanno colpito il Pakistan e Haiti, il Nepal e le Filippine. Quando il genocidio ha messo alle strette la Bosnia e il Darfur. A Gaza, ogni volta in cui irrompe un conflitto e vite innocenti vanno perse, noi eravamo lì a salvare vite. E siamo ancora lì, in più di 40 paesi in tutto il mondo. Islamic Relief continua a salvare vite dal 1984.